... classe 95 e sarà lui adesso a fare il centrale di centrocampo, esattamente di fianco a Donato Ammonito. Camporese, Gomelt, ha visto il corridoio per Caputo che passa davanti, calcia con il sinistro. La girata in avanti di Sampilli, Galano, Donati, centralmente per Gomelt, Gomelt per Stojan, buona la trama, con il bar che si distende, Stojan, Stojan, partito Caputo, partito anche Galano che ci arriva, Galano fino in fondo, il cross, deviazione dentro. Per le speranze della Latina di non perdere questa partita, Sforzini, Gomelt, va sulla sua verticale da Caputo che può accelerare su Brosco, corrono quasi a braccetto i due. The Lady, defendi, Gomelt, defendi, Gomelt, bene per Caputo, protegge palla contro Cappelletti. Rapidamente Sampilli, un po' nervoso, adesso il numero due del bari, Gomelt, in avanti Caputo, Stojan, Caputo, si gira il capitano, ancora per Stojan, Stojan allarga, Galano giù. Decisivo la settimana scorsa, Gomelt, Caputo, Gomelt, Rozi, lo spinge della Fiore. Scarico, Sabelli, il cross è buono in aria, difesa attenta però, ha liberato Struna, poi Donati, Gomelt, allarga il gioco, prova a farlo almeno il bari, Gomelt, Donati, ancora il croato, Gomelt. Sempre col mancino in mezzo da Galano, Galano a cercare Caputo, Caputo fuori, Stojan. Inziste il bari. Si libera così del pallone, Gerardi, questa volta Ligi non entra, non può più entrare, visto il giallo. Galano. Gomelt, defendi. La butta lunga, c'è Gagliolo però che allontana. Bakogu, spostato da Ligi, non c'è fallo. L'esperienza lì, Ligi su Bakogu. Gomelt, col mancino il croato, taglia il campo con questo buon pallone. Galano, buono in controllo, ancora Galano. Galano, punta l'avversario. Mi assicuro che sta vibrando anche la mia postazione. E' sempre bello vedere uno stadio tanto colorato, tanto attivo in Italia. Difficile riempire il San Nicola. Insomma, non si fanno mai attendere troppo i tifosi del Bari. De Luca contro Della Fiore. Radoppiare pronto Brozco. Il tocco morbido al centro per... Intercetta Viviani, sbaffo. E' già partito Magni. Sbaffo si perde il pallone per strada e alla fine se lo fa portare via da Gomelt. Caputo, 3 contro 4. Caputo contro Brozco. Le finte di Caputo che si accentra. Caputo non riesce a calciare. Viviani, ancora un paio di occasioni per segnare. Le ha avute anche in Latina. Minala, controllo così così. Viviani voleva l'1-2 con Sforzini, ma ha sbagliato il primo controllo. Ferdinando Sforzini. Controllo. Viviani, sbaffo. Sforzini. Da dietro, intervento pulito. Non protesta neanche Sforzini. Stoian. Tocca il primo pallone. Sbaffo. A destra al Mici. Magni viene incontro. Magni. Difettoso anche questo stop. Ne approfitta Romizzi. Caputo viene incontro. Tocco perfetto in orizzontale, però a Gome. Centralmente. Coralli protegge palla. Ancora per sgrigna. Capito tutto. Gome. La copertura. Sulle immagini che abbiamo, che vi abbiamo riproposto, rimane veramente la sensazione che la palla fosse al di là della. Però non poteva gestire meglio il pallone. Tenere palle. Aspettare l'arrivo del centrocampista. Romizzi. Rossi. La gira alla ceca. Viviani aspetta il pallone. Gomelt va a contenderglielo. Caputo. Rientra bene su Brosco. Caputo. Troppo centrale per far male a Di Gennaro. Ottima chance per il 2-0 del Bari. Occhio ora alla ripartenza del Latina. Con al Mici.